Dopo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo, Maria ardeva continuamente del più vivo desiderio di riunirsi a Lui. Senza del Suo divin figliolo a Lei sembrava di trovarsi nel più duro esilio. Quegli anni in cui dovette stare divisa da Lui furono per Lei il più lento e penoso martirio, martirio d'amore che la consumava lentamente. Oggi, fratelli miei, festeggiamo un altro santo cappuccino, San Crispino da Viterbo, anche lui devotissimo della Madonna, addirittura faceva dei sonetti e delle canzonette alla Madonna. Vedete, forse io dico, i francescani questa devozione alla Madonna ce l'hanno nel sangue, perché San Francesco fonda l'ordine dove? In una chiesetta mariana, chiamata la Porziuncola, Santa Maria degli Angeli. E allora ogni buon francescano ha nel suo sangue questa tradizione tramandata dal serafico padre San Francesco che comporrà delle bellissime preghiere alla Madonna dove la chiama, ti saluto, ave suo palazzo, ave sua dimora, ave suo tabernacolo, ave sua ancella. Sono delle preghiere di San Francesco composte da lui meravigliose. E quindi da buoni francescani, noi è come se l'avessimo nel sangue questa devozione alla Madonna. San Crispino da Viterbo, che noi festeggiamo oggi il 19 di maggio, ecco ci aiuta proprio ad avere anche lui questa devozione alla Madonna. Ma il nostro discorso è sempre San Pio perché è lui che ci dà questi pensieri. Dice che dopo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo, Maria ardeva continuamente del più vivo desiderio di unirsi a lui. Senza del suo divinfiglio a lei sembrava di trovarsi nel più duro esilio. Ma il Signore invece la lascia ancora su questa terra dopo che lui è salita al cielo perché sapeva che noi avremmo avuto bisogno di questa mamma celeste. Ma voi pensate, quando Giovanni se la porta con sé nella sua casa e gli apostoli incontravano Maria, ma chissà quante volte si sono rivolti a lei per tante delusioni e fatiche apostoliche per tante cose belle o meno belle e si rifugiavano da lei nel suo cuore immacolato, nel suo cuore materno e quante volte Maria li avrà consolati e li avrà ricordati, pensate a Gesù, quello che ha dovuto passare Gesù, Gesù l'ha detto hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi ma avanti, con voi ci sono io, sono la vostra mamma. Vedete, a me mi ha sempre colpito l'immagine della mamma con un bambino. Ci può essere chiasso, può succedere qualcosa. Il bambino in braccio della mamma si trova sempre al sicuro, si sente protetto. Ecco, così noi dobbiamo fare in braccio di questa mamma, dobbiamo sentirci protetti, dobbiamo sentirci al sicuro, qualsiasi cosa accada, io sono fra le braccia di questa mamma. E allora io voglio essere, come un bambino di qualche mese, in braccio alla mamma, a questa mamma che si chiama mamma Maria, dove tra le braccia di mamma Maria io mi sento al sicuro. Qualsiasi cosa accada, lei mi stringe stretto tra le sue braccia materne. Pace e bene. Pace e bene.